Anticipazioni Tempesta d'Amore, venerdì 26 marzo 2021. Christophe, dopo le domande compromettenti di Tim, è costretto a rivelargli il suo piano. Vuole segretamente speculare in borsa i soldi della fondazione per guadagnare milioni di euro in breve tempo. Solo in questo modo potrà dare a Werner e Robert il denaro che occorre per comprare le azioni del Furstenhof e salvare l'hotel dalla rovina economica. Quando poi più tardi l'albergatore tenta di riparare una linea elettrica con l'aiuto di Tim, si verifica un evento dalle conseguenze disastrose. Rosalie mette sotto pressione André in modo da non avere altra scelta. Deve accettarla come sua collaboratrice. Come partner alla pari, la Angel chiarisce subito che alcuni dettagli del suo progetto non la convincono affatto. Lucy viene a sapere che in hotel sta per sopraggiungere un uomo ricco e single. Felice vuole conoscerlo. La delusione è grande quando scopre che non si tratta affatto di un attraente scapolo, bensì di suo padre, giunto lì per passare del tempo con lei. Cornelia consiglia a Robert di prendersi una pausa e lo invita a un picnico. Grazie a tutti.